Buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con un weekend sul lago e noi oggi iniziamo subito con un evento che è in corso proprio oggi che è il compleanno di Pippo. Grazie, grazie, grazie. Mi sono trattenuta da farti gli auguri, ti ho fatto credere di essermi dimenticata perché volevo farti questa sorpresa. Ti ringrazio, non diciamo quanti sono, andiamo avanti. No, diciamolo, quanti? Non diciamolo. Comunque già che siamo in clima goliardico oggi anche mio papà compie gli auguri, compie gli anni. Auguri anche da parte mia. Grazie, Angelo. Angelo, come mio papà. È vero? Sì. Vabbè, basta, insomma, tanti auguri a tutti. Noi torniamo alla nostra puntata, tra i tanti eventi che ci sono stati lo scorso weekend ho scelto per voi la Sky Race di Bellagio, vediamola insieme. 29 chilometri, 1850 metri di dislivello e una fredda pioggia autunnale. È la nona edizione della Bellagio Sky Race, ormai tradizionalmente segnata dal maltempo, ma i 440 atleti in gara lo hanno sfidato e tra loro anche l'assessore regionale Paolo Franco, che a dispetto del cielo grigio ha dichiarato che è stata una giornata spettacolare. Mentre il più veloce, il friulano Tadei Piv, che ha tagliato il traguardo dopo appena due ore e mezza, l'Ecco ha lasciato la sua firma, con Andrea Rota, secondo classificato nei maschili, e Francesca Rusconi, medaglia d'oro tra le donne. Il percorso parte dal centro di Bellagio, dopo due chilometri si comincia a imboccare la mulattiera del sentiero itinerario numero 39 che porta fino alla vetta del San Primo, tutta la dorsale. La cima del San Primo è il punto più alto, sono 1650 metri e poi da lì comincia la lunga discesa, un po' saliscendi, tutta per corridori veloci, che porta praticamente a lungo lago Bellagio, da dove si è partiti. In quanti hanno chiuso la gara? Sono arrivati in 360 persone, ma tanti non sono partiti, perché probabilmente, visto il tempo, hanno ritirato il suo pacchetto e sono andati a casa al caldo. Qualcuno invece è ancora più motivato se c'è brutto tempo? Sì, dopo, è gente di montagna, comunque gente abituata ad andare in giro, comunque camminare all'aperto e anzi, quando c'è il tempo un po' estremo, tra virgolette, sono più contenti, un po' meno i volontari che per chi era lì fermo ad assistere ai corridori, è stata dura, il freddo. Noi cominciamo già in un paio di mesi per riorganizzarsi, eventualmente per l'anno prossimo. Cominciamo a fare delle riunioni, coinvolgere questa corsa, questa organizzazione richiede un numero di volontari che superano i 150, tra ragazzi e ragazze, gente che va dai 18 anni fino ai 70, che partecipano ad aiutare per questo evento. Ognuno ha le proprie mansioni per i ristori, per i tracciati, per la pulizia dei sentieri, ognuno ha il proprio lavoro da svolgere e perciò richiede una certa organizzazione. Oggi siamo con il sindaco di Malgrate, Flavio Polano, benvenuto. Grazie. E parliamo degli eventi in programma Malgrate, a partire proprio da questo weekend. Cosa c'è in programma? Ma questo weekend è un weekend intenso perché coincide appunto con la ricorrenza del 4 novembre che noi tradizionalmente lo spostiamo alla prima domenica utile, e quindi per quest'anno è la domenica 5 novembre dove c'è appunto la cerimonia in chiesa con la cerimonia della Santa Messa e a seguire fuori sulla chiesa sul Sagrato, noi abbiamo il monumento ai caduti, c'era appunto la commemorazione del 4 novembre, quindi il mio discorso. Ecco, quest'anno sarà arricchito da un evento in più che è la posa del milite gnoto, quindi proprio una pietra che è stata donata dall'Associazione Provinciale delle Famiglie Dispersi in Guerra. Era un accordo che avevamo fatto tra i sindaci tre anni fa, quindi ogni anno è stata posata prima a Valmadrera, poi a Valmadrera nel 2021, ma ci va dell'anno scorso, quest'anno Malgrate nel ricordo dei famosi cento anni del trasporto della Salma del Milite Gnoto al Sacragio, al Vittoriale a Roma. Quindi seppur, vabbè, in ritardo però abbiamo appunto fatto questa scelta, anche ogni anno avremmo inaugurato questa lapide. Sì, perché era il 23. Allora, i cento anni erano il 21, cioè quindi era il 4 novembre del 21 che fu trasportata alla Salma del Milite Gnoto da Aquileia a Roma al Vittoriale. E non c'ero, me lo so, non ci mancherebbe. Per cui abbiamo deciso in accordo con le tre amministrazioni e con l'associazione che è stata lei appunto a proporci questa molto significativa, voglio dire, concreto gesto di posa di questa lapide a ricordo del Milite Gnoto. Noi l'abbiamo appunto, la posiamo quest'anno, è posata appunto al canto, al monumento che ricorda i caduti delle due guerre. E la messa sarà che ora? La messa è dieci e mezza, il classico ora. Ok, la messa è dieci e mezza in parrocchia. In parrocchia, esatto. Poi uscendo dalla chiesa appunto facciamo la celebrazione, la ricorrenza, scusi, la commemorazione, la scopertura della lapide. Ecco, quest'anno abbiamo anche invitato i ragazzi del plesso di Malgrate, quindi saranno presenti una rappresentanza di ragazzi di quinta elementare e anche una rappresentanza dei ragazzi di prima media accompagnati dai loro docenti e anche dalla vigente mi ha promesso che cercava di fare il possibile per essere presente. E quindi questo arricchisce e dà anche un significato, come dire, maggiore a questa ricorrenza. Questo per quanto riguarda domenica 5 novembre. Poi lunedì abbiamo la consegna delle civiche benemerenze. Lunedì è il 6 novembre, il 6 novembre è la festa del patrono di Malgrate che è San Leonardo e noi quest'anno abbiamo deciso, l'abbiamo deciso sia inizio anno, di istituire, come fanno tante amministrazioni, questo premio che sono le Crotecifiche Benemerenze, per cui abbiamo istituito il San Leonardo d'oro, sostanzialmente, che è una medaglia e poi abbiamo individuato, su proposta di alcuni gruppi di cittadini, due persone all'interno del paese, ma non solo del paese perché la logica della civica benemerenza è persone che siano cittadini, residenti o anche persone esterne che però abbiano comunque dato lustro e con la loro attività in Italia del paese, e appunto quest'anno premieremo queste due persone che sono già note, che sono uno è padre Angelo Cupini, che storicamente è stato il fondatore del famoso gruppo Associazione di Diagaggio, nel 195, nel 1975, dopo lì era ovviamente un'associazione che succova soprattutto di ragazzi con difficoltà, dopo un po' di anni però poi per motivi logistici sono trasferiti a Lecco, lui comunque ha continuato a operare a malgrate, sia seguendo alcune situazioni, e anche, che è la cosa che noi abbiamo come amministrazione valutato importante, lui con assoluta fedeltà poi tutte le domeniche viene sempre a celebrare messa lì al Gaggio, alla chiesa del Gaggio e quindi… Sindaco, purtroppo c'è rimasto ancora poco tempo. Prego. Quindi… Quindi alla sera poi, alle 19, faremo appunto la consegna di queste due cifre benemenenze e approfitteremo anche per consegna degli attestati di riconoscenza a un gruppo di volontari che durante il Covid si erano distinti perché avevano fatto la consegna dei pasti, diciamo delle derate alimentari a casa di alcune persone che non potevano uscire di casa. Ecco, io volevo andare avanti un attimino perché vorrei parlare anche di Natale. Sì, Natale è ancora lontano, ma è già vicino. Noi a Natale, diciamo che la nostra tradizione è quella dell'antivigilia di Natale, quindi partecipiamo a questa fiaccolata che organizza il gruppo Amici di Pianciresa, la Baita che è il 23 dicembre e quindi il 23 dicembre 19.30 c'è questo ritrovo e poi incolonnati e con le fiaccole che adesso non sono più fiaccole ma sono torce, lampadine per via del problema appunto degli incendi e quindi si sale fino alla Baita, è presente anche il paroco, viene celebrata la messa e poi dopo c'è una cena conviviale appunto organizzata e offerta dagli amici della Baita Pianciresa. È un'iniziativa molto storica perché ormai sono tantissimi anni e quindi è molto seguita dalla gente. Vediamo che anno per anno, a parte il periodo del Covid ovviamente che non si è potuta fare, però c'è sempre un bel gruppo di persone anche che vengono da fuori Malgrate che partecipano a questa interessante fiaccolata. Quindi iniziamo a segnarci questo appuntamento su Malgrate per Natale, però noi continueremo a osservare gli eventi del Comune, se ci sarà altro tra questo weekend e dicembre noi sicuramente lo segnaleremo. Sicuramente. Grazie per essere stato con noi, scusi se le ho messo un po' di fretta, purtroppo anche i nostri tempi sono quelli che sono. L'importante è riusciti a comunicare le nostre iniziative, queste immediate a cui appunto auspico che partecipi la cittadinanza perché... E ci saremo anche noi uniti. Grazie ancora della disponibilità. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. E siamo arrivati al nostro listone. Il 4 novembre 1918 con l'armistizio di Villa Giusti finiva la Prima Guerra Mondiale e sono tanti gli eventi commemorativi sul lago. A partire da domani, venerdì, al teatro di Andrei Di Mandello alle 21. Si terrà uno spettacolo teatrale sulla Prima Guerra Mondiale dal titolo La Grande Guerra eppure si rideva. Un attore racconterà gli eventi bellici più salienti e darà voce ad alcuni soldati in trincea per scoprire che anche sotto le bombe, forse proprio perché sotto le bombe, si cercavano umorismo e risate, uniche armi per sopravviere anche psicologicamente. A Galbiate, sempre venerdì, presso l'auditorio Ungolfari, si coglierà l'occasione per riflettere sulle condizioni economiche della guerra in una conferenza aperta a tutti con il professor Stefano Lucarelli. Il 4 novembre a Valmadrera si commemorano i caduti di tutte le guerre con l'alza bandiera alle 8.30 al Monumento degli Alpini e a seguire con un corteo per le vie cittadine. Con questa occasione sarà anche inaugurato il Monumento ai Caduti, restaurato e a chiudere la mattinata la Santa Messa in chiesa parrocchiale alle 11. E qui abbiamo seguito bene sulla locandina. E torniamo a Galbiate che propone una lunga mattinata per il centroquattresimo anniversario del 4 novembre. Dalle 8.15 con l'alza bandiera, la posa delle coroni alle lapidi di Bartesate, Villa Vergano, sarà al Barro, a quella in onore ai caduti di Galbiate e a seguire la Santa Messa in chiesa parrocchiale sempre alle 11. Anche a Mandello il 5 novembre in piazza Leonardo da Vinci ci sarà un discorso commemorativo alle 9.30. E noi torniamo su Malgrate, ve lo ricordo, ne abbiamo già parlato con il sindaco, la fine della Prima Guerra Mondiale si ricorda anche qui, domenica dalle 10.30 si terrà la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate nella chiesa parrocchiale prima con la Messa e poi il discorso del sindaco e insomma tutto quello di cui abbiamo parlato poco fa. Ma ora passiamo ad argomenti un pochino più sereni. Venerdì pomeriggio, primo paglio canoro della provincia di Lecco, per aspiranti cantanti e anche per gli appassionati di concorsi canori. Vi do appuntamento, preparati Pippo che ti chiedo una cosa qua, vi do appuntamento alle 17 al Cinema De Andrè di Mandello. Io sono stonata e tu Pippo? Come sei messo a doti canore? Sulle canzoni di De Andrè, fantastico. Ah sì, facci sentire un pezzo. La chiamavano volta di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore, metteva l'amore sopra. Bravo! Va bene, puoi andare tu, puoi andare tu. Al Parco Montebarro venerdì, sempre alle 17, inaugura la mostra fotografica Unseen Orchids di Vincenzo Bonvicini, che rimarrà aperta ai visitatori fino a fine novembre per tutti i weekend. Sabato alle 21, quintetto di fiati Gianni Rodari sulle note di Mozart e di altri noti compositori presso la chiesa San Giorgio a Varenna. Vi segnalo anche la vendita di biscotti della Caritas a sabato nella parrocchia di Stara al Barro. La sera, l'ASD Vibes, serata con DJ set dalle 21.30 a Galbiate. A Civate, domenica, e qui mi rivolgo soprattutto ai bambini e alle famiglie, vi propongo lo spettacolo teatrale La Bella e la Bestia. Weekend lento invece a Bellagio con i mercatini di Slow Weekend, sia sabato sia domenica. Domenica Mandello organizza invece una crociera per l'ecco e ritorno in memoria di Mellera con intrattenimento teatrale. E Dulcis in fundo, domenica a Galbiate, si tiene la 45esima festa del ringraziamento. Si inizia alle 9 con l'apertura del mercatino dei prodotti locali in Piazza Dognocchi e mostra dei trattori storici. Alle 10.30 al via la sfilata dei mezzi agricoli per il centro del paese, poi messa, benedizione dei mezzi e infine pranzo a base di Polenta Taragna con il gruppo Alpini di Montebarro. Prima di chiudere il nostro listone per questa settimana, alcuni appuntamenti con il cinema. Alcune erano proiezioni che c'erano già la settimana scorsa, quindi non approfondisco ulteriormente, vi dico solo i titoli e proiezioni. Questa sera alle 21 al Cineteatro Ferrari di Galbiate, il più bel secolo della mia vita. Venerdì e lunedì, sempre qui si ripropone Io Capitano, stessa ora. Restiamo a Galbiate con la proiezione di Comandante, sabato alle 17 e alle 21, domenica e martedì. Sabato, domenica e anche lunedì, invece a Mandello alle 21, torna l'ultima volta che siamo stati bambini. Quindi di questi film ho già parlato, potete trovare un approfondimento nella precedente puntata di Weekend sul Lago della settimana scorsa sul nostro canale YouTube di UnicaTV playlist Weekend sul Lago, oppure guardare su internet. Novità invece al cinema di Bellano dove abbiamo Me Contro Te, vacanze in Transilvania. Mi è risuonata un po' perché sono appena tornata dalla Romania. Sabato e domenica alle 17 è una commedia avventurosa per tutta la famiglia, un viaggio nello spaventoso castello di Dracula per salvare il mondo. E Killers of the Flower Moon, venerdì, sabato e domenica alle 20 e 30. Un giallo firmato Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ambientato nell'America degli anni 20, racconta di un'indagine dell'FBI sulla misteriosa uccisione di una tribù. Ma oggi, prima di salutarci, tengo a ricordarvi che proprio questo weekend i Comuni Lecchesi della Sponda Orientale saranno al Salone Internazionale Svizzero di Lugano con lo stand Lago di Come Experience per promuovere il turismo outdoor di cui, diciamocelo, siamo imbattibili insomma. E con questo punto di orgoglio un po' campanilista io vi saluto. è finito anche il nostro listone di questa settimana, vi auguro un buon weekend, vi ricordo anche di mandarmi le foto, se volete, degli eventi a cui partecipate a alessandra.giavazzi chiocciolateleunica.com. Finito, basta, vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti